Benvenuti, l'azienda Granata Group attraverso il portale www.transpaletitalia.com è lieta oggi di farvi scoprire questo magnifico prodotto. Il Transpalet elettrico Teo 15 con motore trazione in AC e portata di 1500 kg è stato studiato appositamente per le piccole logistiche o per gli autotrasportatori che debbano movimentare velocemente ed in tutta sicurezza la propria merce. La Granata Group ha dotato il Transpalet di una batteria da 24V 105A, un ottimo e robusto timone multifunzione con claxon di segnalazione, tasto antischiacciamento dell'operatore e comandi salita e discesa. Potete trovare tutte le caratteristiche del Transpalet elettrico Teo sul sito www.transpaletitalia.com Cordiali saluti!